L'opposizione raccoglie le firme non per questi problemi contro Berlusconi, ma per Rubi. In che paese siamo? Dov'è la politica? A me questo è quello che preoccupa, che noi stiamo discutendo di lenzuola. Avremmo bisogno di discutere di ben altro. E se da un anno un uomo è al centro delle attenzioni giudiziarie, bisogna chiedersi qual è questa mania che ha preso i magistrati che devono andare a indagare qualunque cosa succede a Berlusconi. Hanno visto dei reati, hanno ipotesi dei reati, e su questo è indagno. Le vittime dei reati qui non si capisce chi sono. Allora a me è capitato più volte di andare a incontrare a casa sua Berlusconi, ad Arcore, che non sono una bella donna, quindi non sono stato degnato delle attenzioni, però santo cielo, permette che ho il dubbio di essere intercettato anch'io per essere stato lì? A questo è un paese che davvero si deve interrogare sui limiti dell'azione penale. Poi si può dire che bisogna indagare su tutto, lo dice persino chi in Parlamento ha portato esempi di vita dissoluta e che adesso fa la morale nei confronti di Berlusconi. Credo che davvero non se ne possa più. Io non so, questa sicuramente è una vicenda che appassiona perché fa leggere, che sia una vicenda che può influenzare la politica o qualche dubbio, e faremmo bene tutti quanti a concentrarci su questioni nodali per la vita dei cittadini. Lei Ferrero che ne pensa? Insomma è così irrilevante? Non ho detto che è irrilevante. No, insomma è meno rispetto. Però non è una questione su cui la politica deve fare dichiarazioni ogni minuto.